Ehi, volete fare acquisti in totale sicurezza? Avete tre possibilità. Uno, stringere amicizia con le forze dell'ordine. Pronto, appuntato? Sì, volevo dirle che abbiamo appena inserito i dati della carta. Perché chiediamo a lei il permesso per comprare il frigorifero? Eh, che dobbiamo chiederlo ai pompieri? Sì, ma che dice? Ci ha dato il permesso? Attaccato. Due, delegare a un corriere fidato. Vai, tu a fare la spesa che io sono incasinatissima. Ti ho già fatto la lista e prima che tu me lo chieda, lì ci sono i soldi. Tranquilla, amore. Faccio in un attimo. Hai perso la lista. Come hai perso i soldi? Tre, mettere la carta al sicuro in un nascondiglio segreto. Oppure affidarsi ad AIP. Puoi fare acquisti in tutta sicurezza online o in negozio. Ma dove sarà mai? Nascondiglio segreto, vero? Ma fai come me, usa AIP. Posso bloccare temporaneamente la carta e nessuno me la può toccare. Nemmeno tu. there. Do come me, usa AIP. Grazie.